La vicepresidenza ha l'opposizione della figura di Sergio Marti indicata dal BPL come forza di opposizione più importante che abbiamo nel municipio. Credo però che sia anche giusto ascoltare da Marti e dalla coalizione del BPL come intendono suddividere i ruoli e gli incarichi che il regolamento permette di ottenere a tutte le opposizioni, visto che anche il Movimento 5 Stelle dichiara di essere fermo a opposizione e quindi volevo sentire anche proprio da Marti e dalla coalizione del BPL come intendono comportarsi quando ci sarà da assegnare i ruoli importanti all'opposizione.